Una raccolta firme in città per il potenziamento dei servizi offerti dalla biblioteca Scarabelli. Questa è l'iniziativa di Avanguardia Caltanissetta, iniziata da poco più di una settimana. Le richieste accolte anche da molti giovani studenti nisseni vertono sul prolungamento dell'orario di apertura della biblioteca, la possibilità di richiedere la consegna a domicilio dei libri venendo incontro così alle esigenze anche delle persone più anziane ad esempio, e infine un servizio online per la consultazione e prenotazione dei testi. Avanguardia Caltanissetta chiede l'implementazione di tutti i servizi forniti dalla biblioteca Scarabelli, in particolare tramite una raccolta firme stiamo chiedendo di prolungare gli orari della biblioteca dalle 9 alle ore 20, quindi permettendo un orario continuato, in vista in futuro di fare anche una chiusura più prolungata, quindi anche fino ad orari serali, così come viene fatto anche in altre città della Sicilia e di tutto il resto d'Italia. Altri servizi come un sito che possa permettere la prenotazione online dei libri, una consegna a domicilio degli stessi libri per coloro i quali sono impossibilitati a recarsi alla biblioteca, ed un coinvolgimento massimo dei giovani che possono tramite uno stage retribuito, tramite un servizio part-time contribuire all'apertura dei locali e alla fruibilità di questo gioiello davvero della nostra città. Attualmente abbiamo, grazie all'aiuto di rappresentanti delle scuole e delle università, abbiamo raccolto più di 200 firme da parte di ragazzi maggiorenni che usufruiscono della biblioteca e prevediamo di consegnare queste proposte all'amministrazione comunale, a coloro i quali vogliono impegnarsi per questa città e possono portare avanti queste iniziative che sono a disposizione di tutti. Noi chiediamo questo aumento dei servizi proprio perché crediamo che dobbiamo dare più possibilità alle persone di andare in centro storico. Chiaramente se ci sono degli orari di chiusura così stringenti, le persone preferiscono non recarsi direttamente in biblioteca andando in altri spazi. Noi chiediamo quindi di aumentare, di dare più possibilità, più disponibilità alle biblioteche, in modo tale che molte più persone sceglieranno di venire in centro storico e di ripopolarlo.